L'applauso liberatorio esplode dopo due ore. I 49 migranti della Geobarens sono tutti sbarcati sul mollo Garibaldi del porto della Spezia, rapidamente come previsto. È la quarta volta che la nave di Medici Senza Frontiere si vede assegnare dal governo la città ligure come destinazione dopo un'operazione di salvataggio. Sono tutte giovanissime le persone recuperate martedì a sud di Malta, dai 14 ai 20 anni circa, provenienti nella quasi totalità dal Gambia, più alcuni da Senegal e Guinea. Tutti salpati da Sfax in Tunisia, tutti alla deriva su un barcone. Due di loro sono stati recuperati su una zattera di fortuna dopo aver perso un terzo compagno di viaggio inghiottito dal mare. Non è la sola storia tragica ascoltata dall'equipaggio della nave. La prima a sbarcare è una ragazza di 14 anni incinta, ha raccontato di essere stata stuprata in Tunisia. Violenze e sopprusi sono riferiti da buona parte dei migranti. L'assegnazione del porto Spezzino, lontano tre giorni di navigazione dal teatro del salvataggio, è contestato dall'ONG, un provvedimento giudicato discriminatorio. Vediamo pure che questi giorni sono sbarcati, sopravvissuti da altri eventi fatti da barche mercantile nella regione siciliana. Allora sicuramente si vede una differenza, una discrezionalità, dipende chi è l'attore che soccorre. A differenza di quanto accaduto nei precedenti sbarchi alla Spezia, stavolta le strutture di accoglienza che ospiteranno i migranti della GeoBarens saranno tutte in Liguria. Tutte le volte che c'è uno sbarco il Ministero dell'Interno li divide sulla base delle regioni e poi sull'accordo con Genova in base alla popolazione, alla dimensione del territorio vengono poi ridistribuiti. Dopo il fotosegnalamento, le visite sanitarie di routine e i pasti caldi offerti da un ristorante del centro città, arriveranno i pullman per i trasferimenti. Tutto entro stasera.